Giovani ribelli, l'identità inglese. Al giorno d'oggi le sottoculture hanno lasciato spazio all'affermazione dell'individuo. Il senso di appartenenza ad un gruppo con una propria identità, a sua volta delineata da usi e costumi ben precisi, quali abbigliamento, musica, comportamenti, eritica, pigliatura, credo, è venuto a meno. I media tradizionali hanno esasperato la figura del singolo, in grado di conquistare la propria indipendenza autonomamente, ma nessuno dei media stessi ha mai posto l'accento sull'altro lato della medaglia, la grave perdita psicofisica di questo modo di ragionare, fecondato ancora in tempi lontani dai principi luministici della rivoluzione francese. Forse questa icona dell'uomo self-made non ha distrutto una componente essenziale dell'essere umano, la socialità? Ma veniamo a noi, facciamo un passo indietro agli albori di quella società illiquida tanto descritta da Bahamon. Siamo a cavallo tra gli anni 60 e 80, al di là della manica, le sottoculture spopolano. Generalmente, quando si parla di sottocultura si pensa alla Gran Bretagna, del miracolo economico e dei giovani proletari che la caratterizzavano. Negli anni 60, a disposizione dei giovani proletari, cominciava ad esserci finalmente del tempo libero, assieme a maggiori sicurezze economiche, maggiore assistenza da parte dello Stato nella sanità e nel mondo del lavoro. Merito della grande crescita economica che coinvolse l'Occidente. Per questi giovani, inglesi e lavoratori, nacque quindi la possibilità di conquistarsi uno spazio all'interno della società, cosa impensabile fino a pochi anni prima. Non si trattava di uno spazio politico, bensì di uno spazio che riguardava la vita di città, i club, le discoteche, le strade, i quartieri, i operai, i pub. La conquista fa ancora di più estetica, segno di una ricerca di identità che fu frutto dell'esigenza di riconoscersi in un gruppo, distaccandosi contemporaneamente dalla cultura dominante. L'essere alternativi era il mantra. Naccero così i Teddy Boys, i Mods, i Rockers, più avanti gli skinny heads, eccetera eccetera. Ogni sua cultura portava in seno le sue peculiarità. I Mods amavano lo stile, discutere italiani, ballare tutta la notte lo ska e il rhythm and blues. Si scontrarono con i Rockers celebre in proposito Larissa e Brighton nel 1964, raccontata nel noto film Quadrofenia. Gli scontri e le serate erano l'insegna della goliardia, non c'era alcun tipo di impegno politico. Ottimismo, voglia di divertimento e senso di appartenenza. Desiderio di lasciarsi alle spalle il disastroso passato. All'interno delle sottoculture l'estetica diventò più che mai linguaggio. perché i giovani inglesi vicino alle sottoculture furono anche essi in preda al fenomeno consumismo, ma cercarono di interpretare la moda per renderla originale. Il modo in cui si indossava un capo e la marca del capo stesso diventò simbolo d'appartenenza. È il caso delle Fred Perry per i Mods, delle camicie Ben Sherman oppure dei Levis. Negli anni 70 con il disagio economico, il tecerismo, il nazionalismo ed il razzismo del National Front in Inghilterra, un nuovo movimento giovanile si oppose alla cultura dominante. Questa volta i giovani si fecero avanti con meno ottimismo, meno eleganza e meno voglia di divertirsi. Si palpò con mano rabbia, violenza all'interno di un clima molto teso. Nacque la rivolta punk. È il 1977 e fu un nuovo periodo per il proletariato. Il punk fu un movimento che diede filo da torcere alla cultura dominante. Scontri con la polizia, manifestazioni, occupazioni, concerti. Furono tanti i gruppi che utilizzavano la musica per comunicare il proprio dissenso. C'è chi lo fece autorevolmente facendo dell'impegno politico la propria causa di vita, Crash. Chi lo fece con meno pretese ma comunque in modo assolutamente incisivo, The Clash and Sex Pistols. Il mercato e le case discografiche non tardarono a individuare nel punk una possibile fonte di guadagno, contribuendo a trasformare un fenomeno di questo tipo in una moda. Giunti al termine di questa disamina sulle subculture inglesi, oggi vorremmo tracciare la parabola tanto controversa quanto sapida dei portieri che hanno custodito la Porta dei Tre Leoni dagli anni 60 agli anni 80. Cercheremo in chiave poliziesca di definirne l'intinti kit di ciascun protagonista, associando ad esso una subcultura. In modo tale che per l'antonomasia ci sia pure un riconoscimento caratteriale della persona, prima ancora che del calciatore. Let's go! Gordon Banks, Moz Il primo vero numero uno della nazionale inglese, forse il primo e l'ultimo. Lo testimonia solo il soprannome, Banks of England, letteralmente Banca d'Inghilterra. Una saracinesca umana in grado di chiudere con doppia mandata per 721 minuti consecutivi la Porta degli Inglesi. Ancora oggi la sua striscia di imbattibilità è la più lunga nella storia della nazionale britannica. Questo in due righe basterebbe per comprendere appieno la maestosità di Gordon Banks, un Windsor acquisito. Ma come si dice, dietro ad ogni campione c'è una grande storia. Crescere a Tinsley, area industriale di Sheffield, negli anni 40 non deve essere stato facile per lui. I Banks vivevano sulla strada, dove assiede l'acciaieria Pitch & Touser e non serve trovarsi vicini per comprendere cosa significa respirare appieno i polmoni, gli odori tossici provenienti dalla fabbrica. Vivevamo in uno stato di ignorante armonia. Nessuno si preoccupava di quel pericolo, perché nessuno ci aveva detto che lo fosse. Gordon era il più piccolo di quattro fratelli e si trovava a crescere in un ambiente povero ma orgoglioso. Bisognava razionare tutto, la spesa calcolata al millimetro, i fiori freschi come una rarità da vivere con l'entusiasmo dell'evento, le partite dello Sheffield Wednesday, regalo per i bambini affamati di calcio. Gordon, conscio della situazione, coltivava un hobby, che nel 2021 può sembrare ridicolo. Osservava i treni che passavano a Tisley, la stazione a due passi dalla scuola e segnava i numeri di matricola. Usando il termine inglese, noto ai più per il capolavoro di Irving Welsh Timespotting, potevano venire da lontano, come Newcastle o Londra, ma anche soltanto da Wakefield o Bradford. Anche solo guardare quei treni mi permetteva di provare la sensazione del viaggio, posti che non avevo mai sentito o i cui nomi avevo letto solamente in una mappa. Era come se questi posti lontanissimi venissero a farmi visita. In una situazione di grandi restrettezze, anche un semplice bagno aveva il sapore di una celebrazione. La sera del venerdì era la nostra Bath Night. Mettevamo in una tinozza su dei giornali e mio padre la riempiva di acqua calda. Per prima entrava lui, poi Jack, quindi David, Michael e infine toccava a me. Ero il quinto a usare la stessa acqua. Era un miracolo uscirne meno sporco di quanto fosse prima entrato. Senza le sovrastrutture della ricchezza e della modernità, il quarto della famiglia Banks crebbe comunque felice, sentendo sulla pelle il calore dell'affetto familiare. Il padre però, stufo dei magri guadagni in acciaieria e già vezzo al mondo delle scommesse clandestine sui cavalli, decise di fare il salto e raccogliere in prima persona le scommesse. Una pratica illegale, visto che all'epoca si poteva giocare esclusivamente a ridosso degli ipodromi. I Banks si spostarono così da Tinsley a Catcliffe per la nuova impresa del capo famiglia, trovando in loco l'approvazione silenziosa di a che avrebbe dovuto controllare. L'ampio guadagno era sufficiente per coprire le multe da 40 sterline, che ogni tanto gli venivano combinate. Ma è proprio questo nuovo lavoro assegnare per sempre l'intera famiglia. Uno dei fratelli di Gordo, ribattezzato da tutti affettuosamente Howard Jack, a causa della sua disabilità, venne aggredito mentre portava con sé i guadagni di una giornata. Un'aggressione così violenta da trascinare in ospedale e a causa delle conseguenze a morire nel giro di qualche settimana. Siamo rimasti tutti attoniti, nulla è stato più lo stesso, la casa, la nostra famiglia, gli affari. Per la prima volta provavo l'esperienza tragica della perdita di una persona amata. Ho pianto per mesi, sentivo vivo il cordoglio per anni e mi è mancato ogni giorno della mia vita. La sua carriera ebbe inizio a Chesterfield nel 1953. Il portiere inglese firmò un contratto molto sui generis, doveva allenarsi con la squadra il martedì e il giovedì sera, mentre doveva rendersi disponibili per qualsiasi formazione del Chesterfield nel weekend, che si trattasse della prima squadra impegnata nella 3rd Division Nord delle riserve o della selezione giovanile. Il suo compenso era di 3 sterline a settimana. Nel 1954-55 subì 122 gol in 42 partite. Mettiamola così, era un portiere molto impegnato. Prendevamo più di 100 gol a stagione, ma le mie parate ne evitavano altrettanti. Più venivamo martellati, più l'entusiasmo rimaneva invariata. Amavo giocare in porta, soprattutto quando incontravo alcuni dei miei idoli. Contro le riserve del Leeds mi trovai davanti il grande John Charles, in via di recupero dopo un infortunio. Sapeva che era un giovane con poche presenze e venne da me. Figliuolo, non preoccuparti, fai del tuo meglio. Quando ci sarà un pallone volante non andrò a saltare contro di te. Divertiti ed è il massimo per il tuo club. Nessuno ti infastidirà oggi pomeriggio. Perdemmo 5 a 0. Segnò tre gol, ma fu di parola. L'esordio in prima squadra avvenne nel 1956, a 19 anni. Banks era non solo agilissimo, ma dotato di un gran senso della posizione e capacità di lettura dell'azione fuori dall'ordinario. Grazie ai suoi allenamenti continui riuscì a migliorarsi anno dopo anno. Vorremmo ricordarvi solo una cosa. In quel periodo non esisteva la figura del preparatore dei portieri e lui lavorava da solo duramente per migliorare. Gli allenamenti per i portieri consistevano in una serie di tiri da respingere. Tutto qui. Nonostante qualunque tipo di avversità, Gordon cercava sempre di rispondere anche quando il pallone era destinato alla rete. Letteralmente non si arrendeva mai. Ne sa qualcosa Pelé a Messico 70. Guadalajara sotto la canicola estiva di mezzogiorno. Il termometro esplode in tutti i sensi, sia quello del tifo con 70.000 spettatori che quello dell'aria con 38 gradi celsius. Caliamoci nella sfida valida per il primo posto nei gironi dei mondiali. Gordon è la sua forma migliore. Non è mai stato così tirato fisicamente in carriera. E lasciamo che sia lui a descrivere il miracolo che lo ha consegnato alla storia. Vedi Arsigno caricare il cross e iniziai a muovermi sulla linea di porta, pensando che avrebbe messo il pallone verso il dischetto del rigore. Ero convinto che sarei stato in grado di anticipare Pelé, che era appena entrato in aria. Ma Arsigno mise il pallone dall'altra parte, subito fuori dall'aria piccola. Girai la testa e vidi nuovamente Pelé che colpiva il pallone di testa. Appena la sfera lasciò la sua testa, lo senti urlare. GOLOOOOOO! In una situazione come quello, tutto diventa chiaro nella tua mente. L'esperienza e la tecnica hanno il sopravvento. Mi trovai all'improvviso in un angolo di 40 gradi, con la mano allungata verso il palo e i miei occhi sul pallone che scendeva. Capii che non sarei stato in grado di bloccarlo. Istintivamente sapevo che avrei dovuto colpire la sfera verso l'alto. In quel modo Pelé non avrebbe potuto realizzare il tapin vincente. Il pallone toccò terra, a meno di due metri da me. La mia preoccupazione era capire l'altezza del rimbalzo. Riuscì a toccare il pallone con le dita, era la prima volta che indossavo un nuovo tipo di guandi, molto utilizzato in Sud America. Erano più grandi dei nostri coperti di gomma. Fecero il loro dovere, riuscì ad arrivare sul pallone. Ora la preoccupazione era non spedire la palla sulla parte alta interna della rete. Ruotai leggermente la mano usando il terzo e il quarto dito come leva. La mia prima reazione fu guardare Pelé. Non avevo idea di dove fosse il pallone. Aveva la testa tra le mani. Capii quello che avevo bisogno di capire. Mentre mi rimettevo in piedi Pelé venne da me e mi diede una pacca sulla spalla dicendomi. Pensavo fosse gol. Siamo in due, gli rispose. Le immagini tv della partita mi mostrano ridere mentre mi giro e riprendo la posizione per il calcio d'angolo. Questa per molti rimane ancora oggi la parata del secolo. Il gesto che squarciò la tela sul suo passato. Il compimento di quel rituale arcaico che i greci chiamano Paideia. La formazione dell'uomo. Gordon parò quella palla grazie ad un colpo di reni felino. Proprio quei reni che nel 2019 l'hanno tradito, consegnandolo alla memoria perpetua. Gordon fu letteralmente un'avanguardia nel suo ruolo. Visto i suoi connotati stilistici e vista la sua infanzia, vorremmo affibbiarle la sottocultura dei mods. Mod è di fatto l'abbreviazione di modernist, a sua volta derivante dal genere musicale privilegiati tra gli early mods, il modern jazz, di larghissima diffusione nei locali londinesi di Sow di fine anni 50 e primo vero tratto distintivo dell'originale formazione sottoculturale. Ma l'essere un mods non significava solamente percepire un'identità collettiva attorno a un genere musicale, perché lo sviluppo delle prime aggregazioni ruotava intorno ad uno scopo ben preciso, che prevedeva l'esplicita volontà di distaccarsi dal modo in cui viveva la generazione precedente, dei padri e delle madri che faticavano anche solo a realizzare la portata del boom economico sviluppatosi nel dopoguerra. Ecco allora che i primi mods attinsero a pieni mani dall'italian style, ricercando quindi completi finemente elaborati ed eleganti, in netta contraposizione con lo stile adottato da genitori e coetani. Abiti di sartoria dalle stoffe di grammature leggere, look pulito, asciutto e vistoso, con il quale potersi mettere in mostra nei frequentissimi raduni a bordo di vespe e lambrette, addobbate con miriade di luci, specchietti e accessori, che avevano il semplice scopo di richiamare l'attenzione e di rendere il gruppo volutamente appariscente al suo passaggio per le vie londinesi. Tra i rispunti dal look italiano significava sposare l'eleganza distintiva di uno stile globalmente riconosciuto e appreziato, dal vestiario agli accessori, passando per i mezzi di locomozione. I tratti unici dello scooter italiano hanno fornito ai mods uno strumento esclusivo per accrescere il loro grado di riconoscibilità. Il Times, dopo l'immissione della Vespa sul mercato, parlò di un prodotto interamente italiano come se non se ne vedevano da secoli, dopo la biga romana. Forse pure il nostro Gordon assaporò il profumo di baci galupo, la volontà di essere un passo avanti ai tempi in cui sei presenti, esseri compresi solo quando non ci sei più. Ditelo a Leicester che nel 1967 lo liquidò per quel ragazzino e poi futuro portiere della nazionale, Peter Shilton. Lui alzò i tacchi senza sbattere la porta e andò a dimostrare il suo reale valore allo Stock City. Umile ma il contempo consapevole dei propri mezzi. Questa è l'essenza di Gordon Banksy. Race Clemens è stato il portiere più tecnico mai avuto dalla nazionale inglese, l'amante della bella parata, quella per i fotografi, l'unico in grado di convivere con l'ombra gigantesca di Peter Shilton in una continua rivalità sportiva durata per un decennio. Ripercorriamo assieme le tappe di una carriera in luce nei club nei quali stradominò, ma in penombra e nazionale. Ray Clemens aveva 19 anni e faceva il bagnino a Skegnes, paesino affacciato sul mare del nord dove nato, quando vide un uomo correre l'incontro. In affanno lo raggiunse, si fermò e riprese fiato. Ray lo osservava e intanto impilava sedia a sdraio. Poi capì chi aveva di fronte, un dirigente dello Scunthorpe, la squadra nella quale giocava. Gli era venuto a comunicare che era stato appena seduto al Liverpool. B. Shankly, padre padrone di Reds, lo aveva appena acquistato per 18.000 sterline. Così, su una spiaggia del nord-est dell'Inghilterra, cambiò la storia di quello che diventò poi il portiere più amato della storia del Liverpool. E dire che, come succede a tanti, Clemens da bambino giocava da centro avanti, poi difensore nella squadra della Loomley Secondary Modern, la sua scuola. Quando venne a mancare il portiere titolare, gli fu chiesto di spostarsi tra i pali, solo temporaneamente. Ci rimase per tutta la carriera, poi. Il Liverpool lo aveva già comprato quando Shankly si presentò in tribuna nella sua ultima gara contro lo Scunthorpe. Prese tre gol, due di sua responsabilità, e pensò di aver perso la chance di una vita. Il suo stipendio da calciatore all'epoca era di solo 11 sterline a settimana. Per questo aveva dovuto trovare un lavoretto estivo, il bagnino, che gli permettesse di dare anche una mano a casa. Shankly non cambiò idea per quegli errori, ma al momento della firma aveva raccontato a Ray una parziale verità. Tommy Lawrence, 27enne portiere dei Reds, non stava per lasciare, anzi. Così i primi anni di Clemens li trascorsi in panchina, utilizzando la maglia del titolare, che gli arrivava solo alle ginocchia. Nelle rare occasioni in cui era chiamato in causa. Quando però iniziò a giocare con continuità, nessuno mise più in dubbio la sua posizione. Capelli lunghi e sguardo fiero. In 14 stegioni al Liverpool, Clemens ha vinto tre volte la Coppa dei Campioni, 1977-79-80. Una Supercupa europea nel 1977, 5 campionati inglesi, 1973-76-77-79-80. Una Coppa di Lega, una Coppa di Inghilterra e 5 charity shield. Nell'arco di 6 anni tra il 1972 e il 1978 ha giocato 336 partite di fila, senza saltarne neanche una. Nel 1981 arrivò a Globelar e decise di cambiare aria, passando al Tottenham, dove continuò a giocare fino a 40 anni. Chiuse la carriera con 1118 gare disputate, uno dei pochi calciatori al mondo ad aver superato quota 1100 di cui 323 terminate senza subire reti. Il nazionale aveva davanti, come già accennato, il colosso Shilton, e le presenze furono solo 61. Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato la vita calcistica di Ray, Clemens, è il dualismo a tratti eccessivo vissuto con Peter Shilton, classe 49, per la maglia numero 1 dell'Inghilterra. Il 15 novembre 1972 a Neon Park contro il Galles debuttò in nazionale, mantenendo la porta inviolata. Il primo di 61 caps, la cui striscia terminò nel 1983. La presenza di due portieri di alto livello sulla scena inglese rese un po' tormentato il post Banks. In realtà, la coppia andava d'accordo con grande stima reciproca. Le stesse gestioni tecniche a capo dell'arroa rappresentativa non furono in grado, a più riprese per tanti anni, di prendere una posizione univoca su chi dovesse infilare la maglia numero 1. Clemens e Shilton furono alternati, anche nei gradi appuntamenti, sia a Euro 80, due presenze per Ray, che al mondiale spagnolo dell'82, zero minuti. Ora veniamo allo stile di gioco di Ray. Nonostante un'altezza non marcata, solo un metro e 83 centimetri, Clemens sapeva confluire nella parata sobrietà, pulizia, affidabilità. Non è un caso che gli fu conferita l'onorificienza dell'Ordine dell'Impero Britannico nel 1987 per il suo apporto al calcio. L'eleganza stilistica ci ha fatto venire in mente quella sottocultura lampo degli sweat head, letteralmente testa scamosciata. Come mai? Gli sweat head sono una sottocultura giovanile generatasi negli anni 70, a partire dai moths e dalle skinhead, un crossover. Guarda caso come Clemens prese spunto da Banks. Però, al contrario delle precedenti sottoculture, gli sweat head non si soffermarono sulla rivolsa sociale tra le classi, ma si concentrarono esclusivamente sull'aspetto sempre curato e la passione per la musica nera. La caratteristica distintiva di questo movimento fu la capigliatura corta, ma leggermente più lunga di circa 4 o 5 cm rispetto agli skinhead, proprio come adorava il nostro Ray. Peter Shilton, Punk Estadio Azteca, 22 giugno 1986. I secondi scorrono tra il 51esimo e il 52esimo minuto di gioco. La contesa tra Argentina e Inghilterra e i mondiali messicani è più che una partita. Stridori tatscheriani tengono i tifosi sudamericani con il fiato sospeso, aggrappati alla ricerca della vendetta tramite il loro pupillo Diego Armando Maradona. Quando una palla vagante nell'area inglese, frutto di un tocco del difensore Stephen Hodge, carambola in aria, l'argentino e il portiere Leslie Shilton si avventano verso scopi differenti. Annimente il gol e la parata. Il duello fulcro di questo sport, il calcio, fatto di operai in mezzo agli artisti estremi. Maradona, pur pagando 20 cm da Shilton, guizzò con destrezza e colpì la palla con la mano, nascondendola il più possibile dagli sguardi dell'arbitro nella foresta di Capelli Mori. Il portiere si avvicinò alla sfera, ma i suoi tempi non furono calcolati sull'inaspettato trucco dell'argentino. Rete, 1-0. L'arbitro Alibina Nasser non ravvede le irregolarità. Palla al centro e le vite dei protagonisti si divisono. A differenza di Banks, che incontrò il primo numero 10 del calcio mondiale proprio in Messico, segno del destino, e il quale negò il gol con un colpo da maestro, stavolta Shilton andò all'opposto. Infatti, come già rimarcato, venne ingannato dall'astuzia del pibe d'oro. Se questa è la fotografia da dimenticare, ce ne sono altre tante da conservare per il nostro buon Peter. Peter Shilton ha giocato qui, nel calcio britannico industriale, duro e cinico, prima che arrivassero agli sfarzi della Premier League. Dal 1966 al 1997, il portiere nato all'Eister ha accumulato 1.5 partite, tra prima e terza divisione. 1.249 se si contano le Coppe di Liga e la FA Cup. L'orgoglio però è andato rilassato ancora di più nella nazionale inglese, con 125 presenze dal 1970 al 1990, con gli ultimi di questi dieci anni colmi di europei e di mondiali. Ancora oggi è il giocatore con più caps della storia, 5 in più di Wayne Rooney, 10 in più di David Beckham, notevole. Con il Nottingham Forrester ha vinto un campionato, due coppe UEFA e una supercoppa europea, alla fine degli anni 70. Un bottino ricco. I sogni di Glorian furono coronati a punte nelle fila del Nottingham Forrester in seguito, ma nel frattempo crebbero anche i suoi incubi peggiori, sotto forma di gioco d'azzardo e di alcolismo. Soldi, bevute e gossi di Dada Bloy della peggiore specie. Se non fosse stato un portiere dell'Inghilterra, forse avrebbe fatto la fine di George Best. Questi connotati ribelli, anticonformisti, forse sono frutto dell'estetica punk che imperversava in quegli anni, La subcultura punk ha rappresentato il più grande fenomeno spettacolare di ribellione e di provocazione contro la società e la borghesia che ci sia mai stato nella storia. Nato nella seconda metà degli anni 70, in Inghilterra, il movimento punk ebbe una tale rilevanza da influenzare numerose forme d'arte e aspetti culturali di quel periodo, dalla letteratura fino al cinema. L'aggettivo punk fu originalmente utilizzato dalla critica musicale, per descrivere la musica autoprodotta dei gruppi garage, che suonavano canzoni con accordi essenziali e componevano testi violenti. Queste band all'inizio degli anni 70 crearono un circuito di distribuzione alternativo a quello mainstream, prediligendo le scene locali a quelle nazionali, proprio come le squadre in cui si accasò il nostro buon Peter, e rifiutando i canoni musicali imposti dalle culture dominanti. I giovani della working class inglese iniziarono a sostenere tenacemente l'etica anticonformista di questi artisti, fino a diventare loro pubblico. Nacque così la subcultura punk, che fu un fenomeno talmente dimansa da diventare alcune garage band delle vere e proprie leggende della musica, come i Sex Pistols e i The Clash. L'abbigliamento punk era caratterizzato da vestiti strappati, catene al collo, piercing, tatuaggi, creste e ciuffi colorati. Indossavano anche abiti borghesi, come la giacca e la cravatta, per poi ironicamente riempirli di spille da baglie e borghi. Nessuna subcultura ha cercato con più cupa determinazione di staccarsi dal paesaggio dato per scontato delle forme normalizzate, e di proclamare così tanto il proprio analfabetismo, spingendo la profanazione ad estremi così sensazionali. I punk teatralizzavano quello che per loro era la decadenza dell'Inghilterra, e si impresentavano come dei degenerati, per rappresentare la condizione atrofizzata in cui si trovava il paese. Tali proposizioni, per quanto bizzaremente siano state costruite, erano fusi in un linguaggio che era accessibile a tutti. Questo può spiegare il successo della subcultura punk, che divenne la voce di un'intera generazione, che aveva il desiderio di rigurgitare un agglomerato di problemi, che dediavano la vita quotidiana. Quel mondo ormai non esiste più, si è trasformato, un po' come succede nella vita di ognuno di noi, però il ricordo e la memoria rimangono, così come le geste e la presenza rassicurante in porta di quei tre guardiani di tante speranze inglesi. Inglesi, che in quegli anni non erano soddisfatti della loro condizione quotidiana e cercavano un modo per evadere. E tutto questo, come vi abbiamo appena raccontato, si è riflesso sulle subculture che sono poi state esportate in tutto il mondo, condizionando un'intera generazione di giovani. Grazie Grazie